Benvenuti a questo incontro di A Che Serve Volare, organizzato dall'Aerofototeca Nazionale. L'Aerofototeca Nazionale conserva una delle più importanti collezioni italiane di fotografia aerea. La collezione inizia con le prime esperienze di fotografia dal cielo e raccoglie poi i contributi della Royal Air Force dell'Aeronautica statunitense, realizzati in occasione della Seconda Guerra Mondiale. Finita la Seconda Guerra, le collezioni continuano con campagne specifiche organizzate dall'Aerofototeca insieme all'Aeronautica Militare. Vengono effettuate campagne che coprono quasi l'intero territorio nazionale. L'attività di concerto con l'Aeronautica Militare non si esaurisce con le campagne fotografiche aeree, ma continua negli anni con un costante approfondimento dei fondi e un'analisi critica di tutte le collezioni. L'incontro che presentiamo questa sera, che vede il generale Basilio De Martino impegnato nella presentazione delle foto delle trincee della Prima Guerra Mondiale, e rientra proprio all'interno di questa attività costante che impegna l'Aeronautica Militare e l'ICCD, che in questo momento ospita e raccoglie le collezioni dell'Aerofototeca nazionale. Il generale De Martino è uno dei principali storici dell'Aeronautica Militare italiana, ed è un carissimo amico dell'Aerofototeca. Ci accompagna infatti da anni nell'analisi dei più importanti fondi dell'Aerofototeca e questa sera appunto ci illustrerà questo specifico argomento che riguarda le trincee. È un argomento che in questo momento l'Istituto Centrale per il Catalogo sta studiando con particolare attenzione anche sul fronte della catalogazione. Siamo per questo doppiamente felici di ospitare questa presentazione. Do quindi il benvenuto al generale De Martino e a tutti voi auguro un buon ascolto. Grazie e a presto, rivederci. Buonasera, l'argomento di cui parleremo questa sera è un argomento che ha un particolare significato nelle vicende della Grande Guerra ed è relativo alla ricognizione fotografica. La ricognizione fotografica, e parlando di questo intendo parlare della ricognizione aerea condotta con l'uso di macchine fotografiche, fu uno degli aspetti più innovativi di quel conflitto. La fotografia non era stata inventata da poco e ha già stato utilizzata e hanno già state fatte fotografie e rilievi fotografici da palloni aerostatici e si erano già fatti degli esperimenti di ricognizione aerea utilizzando macchine fotografiche. Non ultimi, gli italiani l'avranno usato nella campagna di Libia. Ma la Grande Guerra, che è il primo vero conflitto tecnologico della storia, vede entrare in campo due importanti innovazioni. Il velivolo, la macchina fotografica, è collegata a queste due, nell'ambito sempre della ricognizione aerea, la radiotelegrafia. Perché sono così importanti questi elementi? Con il velivolo, con l'aeroplano, ma uso la dizione velivolo che in aeronautica c'è particolarmente cara e familiare, i comandanti avevano una possibilità, una possibilità che avevano inseguito per secoli e che solo di recente avevano avuto a disposizione, quella di guardare l'altro lato della collina. L'aeroplano consentiva di farlo. E questo è il primo impiego bellico del velivolo. E inizialmente questo impiego bellico è finalizzato all'individuazione dei movimenti di Teuppe. Quindi è un impiego di tipo strategico, o almeno operativo, intendendo con questi due più alti livelli di conflitto. E' ben noto che nelle fasi iniziali della Grande Guerra la ricognizione aerea così intesa ebbe un ruolo importante sia nella battaglia della Marna sul fronte occidentale sia nella cosiddetta battaglia di Tannenberg sul fronte orientale. Ma che cosa succede? Dopo poco, e sappiamo bene che questo che cosa poi ha significato in termini di sacrifici di sangue, il conflitto da guerra di manovra si trasforma in guerra di posizione. E con la guerra di posizione cambia anche l'esigenza in termini di ricognizione fotografica. Perché? Perché a questo punto non è più tanto importante individuare livelli, truppe, artiglierie in movimento. Ma è importante individuare nel dettaglio quella che è la sistemazione difensiva dell'avversario. E per far questo l'occhio umano da solo non basta più. Serve qualcosa che documenti quella che è la situazione sul terreno e ne consenta poi lo studio dettagliato in un momento successivo. E questo strumento è la macchina fotografica. Quindi la macchina fotografica diventa il partner dell'aeroplano nell'ambito della ricognizione tattica, quella che è finalizzata a ricostruire la sistemazione difensiva dell'avversario. Velivolo, macchina fotografica e a questo punto anche la radiotelegrafia sono invece altrettanto importanti per dare soluzione a un altro problema tipico della Grande Guerra che è un problema che nasce in quel conflitto ed è imposto dal dilatarsi delle gittate dell'artiglieria. Se nella guerra del 1870, nella guerra franco-prussiana, la gittata dei cannoni è comparabile a quella dei fucili, un chilometro o poco più, nel giro di 40 anni i progressi della meccanica, della metallurgia, della chimica hanno fatto sì che queste gittate si siano moltiplicate per un fattore di 8, 10, 12 volte. L'artigliere che spara non è più in grado di vedere il bersaglio e ha bisogno di qualcuno che gli dica dov'è il bersaglio e dove vanno a finire i colpi che spara. Nelle zone di pianura o dove comunque non ci sono osservatori in montagna, questo qualcuno è l'avviatore o l'osservatore sistemato su un pallone frenato che poi ha bisogno di uno strumento che consenta di trasmettere i dati di tiro alla batteria che spara. Questo strumento, nel caso del pallone aerostatico, è il telefono con un cavo telefonico che corre lungo il cavo di vincolo o che si identifica con lo stesso cavo di vincolo e, o nel caso del velivolo, la radiotelegrafia. Quindi il velivolo, che è forse una delle innovazioni tecnologiche più importanti della Grande Guerra, per essere effettivamente utile nel quadro della guerra di posizione ha bisogno di altre due innovazioni tecnologiche, la fotografia aerea e la radiotelegrafia. Fatta questa premessa, andiamo a vedere qualcosa in dettaglio di quello che succede sul fronte italiano. È un'esigenza che si afferma subito anche sul fronte italiano, nonostante l'Italia entra in guerra parecchi mesi dopo gli altri belligeranti e la situazione è individuata subito con chiarezza. Questo che vi presento è un estratto di un documento, Servizio di Ricognizione e Osservazione Aerea nei Corpi d'Armata del 5 marzo 1916, che è una direttiva sull'impiego del velivolo e della macchina fotografica. E stabilisce appunto questo. La stabilità e la fronte, l'assenza di grandi movimenti, il grande sviluppo dei mezzi di difesa e d'artiglieria, richiedono ricognizioni di portata limitata, quindi concentrata in una fascia di territorio a ridosso delle prime linee, si parla di 10-15 km al massimo, ma persistenti e molto minuziose. E questa persistenza è data solo dall'utilizzo della macchina fotografica, perché il velivolo non può fermarsi a lungo, deve sorvolare e allontanarsi, ma può scattare durante il passaggio un certo numero di fotografie. Non moltissime, sono macchine che utilizzano lastre come da impressionare e ne portano nel magazzino, nel caricatore, 12 o 24. Questo almeno per buona parte del conflitto, poi alla fine della guerra, ma saranno relativamente poche, avremo anche delle macchine fotografiche a pellicola. La diffusione della fotografia aerea poi comporta un altro aspetto. Si passa dalle macchine prospettiche, quelle che vengono già impugnate dall'osservatore e puntate verso il terreno, e che comunque hanno loro validità, perché consentono una visione obliqua, alle macchine planimetriche, montate eventualmente e possibilmente con dei dispositivi che consentono di assorbire le vibrazioni. Il risultato di queste ricognizioni fotografiche è quello che vediamo sulla destra. Un esempio è uno schizzo del vallone di Chiapovano, zona logistica a ridosso tra l'altopiano della Bainsizza e l'altopiano di Tarnova, che proprio perché si trattava di un vallone, quindi di una zona incassata e defilata al tiro, era un importante centro logistico osteungaico. La ricognizione fotografica consente di individuare le varie installazioni, baracche, depositi, zone di rannunata delle truppe e dei quadrupedi, sul fondo del vallone. Ecco perché questo tipo di schizzo si fonda sull'attività di ricognizione e sull'analisi delle fotografie. L'osservazione del tiro è l'altro aspetto. Richiede un grosso affidamento tra l'aviatore e l'artigliere e richiede soluzioni specifiche in termini tecniche e di procedure che consentono di trasmettere informazioni in tempo reale, tempo reale inteso in senso ingegneristico, cioè in modo da poter intervenire in tempo utile, questo significa tempo reale in questo caso, sull'andamento del processo. In questo caso queste informazioni devono essere trasmesse dal velivolo a terra in tempo utile per consentire di aggiustare il tiro. La radiotelegrafia è parte integrante di una rete integrata al servizio dei comandi che comprende anche mezzi ottici e telefonici per la trasmissione di informazioni. E questa integrazione di informazioni accelera il ciclo decisionale e consente di risolvere il problema tattico, garantendo un margine di vantaggio sull'avversario che è tanto maggiore quanto più rapido è il processo, quanto più breve è il tempo che intercorre tra l'azione di fuoco della batteria, l'azione di rilevamento dei punti di caduta dei colpi del velivolo e di ricezione a terra dei dati di correzione. Dove entra la fotografia in tutto questo? Nel 1918 si utilizza anche la fotografia per capire come stanno andando le cose. Questa è un'immagine relativa alla primavera del 1918, a una zona del fronte del Piave, case giardini, nell'inquadratura in alto, nella fotografia in alto, nell'ambito, al centro del cerchio, sono individuate le piazzole dei cannoni di una batteria da campagna austro-ungarica. È, diciamo così, il momento in cui l'obiettivo viene individuato dall'avviatore e fotografato. Dopodiché le coordinate dell'obiettivo vengono passate alle batterie che iniziano il cosiddetto tiro di controbatteria, che non è finalizzato tanto alla distruzione della batteria avversaria, ci volevano moltissimi colpi per arrivare a centrare le piazzole dei pezzi, ma a neutralizzarlo costringerlo a spostarsi. Ed è esattamente quello che succede. Se passiamo all'inquadratura successiva, che è quella sottostante, scattata sempre da un velivolo della stessa squadriglia, la 38esima, si vede il terreno butterato dai colpi in arrivo dell'artiglieria italiana e, come si può vedere, i pezzi d'artiglieria austro-ungarici sono scomparsi, sono stati spostati più che distrutti. Fatte queste due premesse, andiamo a vedere qualche immagine e commentiamola. Questa è un'immagine che sintetizza il ruolo principe del velivolo durante la Grande Guerra, la ricognizione tattica e l'osservazione del tiro. Questa è una macchina molto popolare, molto diffusa nei primi due anni di guerra, un Codron G3, un biposto con la classica architettura travi di coda, l'immagine che lo ritrae in pianta la evidenzia molto bene, in cui l'osservatore sedeva davanti e il pilota dietro. L'elica era un'elica trattiva, la velocità non era di molto superiore ai 100 km. era un velivolo molto stabile, facilmente controllabile dal pilota, utilizzato dalle squadriche da ricognizione e in particolare da quella di osservazione del tiro. Vi propongo questa immagine perché è riferita a uno dei punti salienti del fronte italiano, la zona di Gorizia, quello che si vede in basso del corso dell'isonzo. Davanti al velivolo si intravede la linea delle trincee e in questo tipo di missione il Codron G3 operò su tutto il fronte dell'isonzo per i primi due anni di guerra, fino almeno all'estate del 1917, quando poi cominciò a essere superato e venne ritirato per altri compiti, come innanzitutto l'addestramento, la scuola di pilotaggio. Sempre l'isonzo, questa invece è un'immagine prospettica, abbiamo visto prima un'immagine planimetrica, questa è un'immagine prospettica che consente di cogliere altri dettagli. Cosa vi voglio far notare qui? Questo è il ponte di Salcano, il ponte di Salcano, ponte ferroviario, qui si vede che è stato fatto saltare all'inizio del conflitto, sulla sinistra abbiamo le pendici del Sabotino, sulla destra il Monte Santo e San Gabriele, la sella di Dol, interposta tra i due colli, e il burgo di Salcano, che è subito a nord di Gorizia. Immagini di questo tipo venivano utilizzate per pianificare sia l'azione dell'artiglieria, sia le possibili operazioni offensive, sia per interpretare quelle che potevano essere le intenzioni dell'avversario, e quindi per avere un tempo di allertamento prima delle sue iniziative. Un'immagine che mi è abbastanza cara, perché questo è un posto che ho frequentato spesso in vacanza, in Trentino, nella zona di Folgaria, questo è il Forte Idos del Sommo. A un osservatore profano l'immagine non dice molto. Il Forte Idos del Sommo è una delle sette fortezze costruite dall'Austria e Ungheria in quella zona, a copertura degli altipiani trentini, sia in chiave difensiva, sia per garantirsi una base di partenza per un attacco verso la pianura veneta, verso la pianura vicentina, che poi sarà quello che gli austriaci avrebbero tentato di fare poi due volte, sia nella primavera del 16, sia nell'autunno del 17. Ora, cosa si vede in questa immagine? La cosa che balza più evidente è la strada. La strada è la vecchia strada costruita prima della guerra. La fortezza fu attivata nel 1914 con la sua piena potenza e è uno dei forti più moderni degli altipiani. Questa è un camminamento coperto, un camminamento che consente l'avvicinamento all'ingresso della fortezza. Questa è la zona della fortezza. con il blocco delle casamatte per l'alloggio della truppa. Qui più avanti c'era il blocco batteria con le torrette dei cannoni. Questi erano i fossati. Il fossato di fronte e il fossato di gola. si intravede una sorta di mimetizzazione perché le fortezze erano ricoperte dall'asta di zinco e queste laste di zinco erano state verniciate con macchiazze di vernice verde e rostasta per mimetizzarle con l'ambiente. E qui ci sono dei trinceramenti sono tuttora visibili del terreno per chi avesse occasione di andarci che sono dei punti d'appoggio per la difesa. Questo vi consente di capire quanto fosse importante disporre di queste immagini per capire qual era l'organizzazione difensiva dell'avversario. Questo è un altro forte è un forte molto famoso sempre uno dei sette forti all'altopiano è il forte di Luserna fu ridotto a una rovina dai tiri dell'artiglieria italiana ma non fu mai espugnato. Nessuno dei forti fu espugnato se non negli ultimi giorni di guerra dopo lo sfondamento del fronte quando l'esercito austro-ungarico si dissolse durante l'ultima offensiva degli italiani e delle forze alleate schiate sul fronte italiano. si vede molto bene quella che è la sagoma del forte questa era la direzione verso il fronte italiano qui si vedono le strade d'accesso e questi numeri in rosso individuano le posizioni delle cupole dei quattro obici da 10 cm che costituivano l'armamento del forte chiaramente visibile il fossato qui c'è il cosiddetto fortino di Conteo Scarpa che prendeva di infilata il fossato e consentiva di fermare l'avversario che fosse riuscito ad arrivare a ridosso del forte questo è all'ingresso andiamo avanti altro luogo simbolo dei combattimenti sul fronte alpino della grande guerra questo è il Monte Piana per chi abbia avuto occasione di visitare la zona di Dobbiaco di Cortina e del lago di Misurina probabilmente l'ha visto anche se non è detto che abbia avuto la voglia o l'intenzione di salirci ci si arriva abbastanza facilmente anche oggi il percorso più semplice è questa strada la vecchia strada di guerra costruita dagli italiani oggi c'è un servizio di jeep che consente di percorrerla e di arrivare qui dove c'è il rifugio Monte Piana che consente di iniziare la visita cosa si vede in questa immagine? i tracciati delle trincere ecco perché un occhio sulle trincere è il titolo che ho voluto dare a questa mia chiacchiata questo era l'obiettivo principale dell'attività di ricognizione individuare queste realtà queste sono le trincere italiane questo è il vallone dei castrati che divideva in sostanza il tavolato superiore del Monte Piana in due parti qui la parte a sud controllata dagli italiani la parte nord leggermente sopraelevata controllata dagli austriungarici e qui il rapido diupo del monte verso la strada d'Alemagna e la vallata dell'Aienza che porta verso Dobbiaco l'immagine è del 6 settembre 1917 e le date anche sono importanti perché consentono di collocare questo tipo di allestimento difensivo in un determinato periodo storico e questo siamo praticamente alla vigilia dell'offensiva che porterà gli austro-tedeschi a sfondare a Caporetto e gli italiani a ripiegare dalle posizioni di Monte Piana dove infatti si combatte fino agli ultimi giorni prima del ripiegamento alla fine di ottobre e poi le posizioni rimase abbandonate e sono tuttora lì altro tipo di immagine fotografica per fare quello che oggi chiameremo Battle Damage Assessment valutazione dei danni inferti all'avversario questa è un'immagine uno dei tanti bombardamenti che furono fatti sulle retrovie austro-ungariche dell'Isonzo andando a cercare di colpire quelli che erano gli allestimenti logistici cioè quello che serviva per alimentare lo sforzo dell'esercito austro-ungarico e in questo caso si tratta della stazione Il Potbordo che è questa sono stazioni che hanno conosciuto il loro massimo sviluppo durante la guerra perché arrivavano a una certa distanza la linea del fronte sto per dire a ridosso relativamente a ridosso la linea del fronte sempre almeno una decina quindi 10-15-20 km hanno esso fuori dalla gettata delle artiglierie e potevano quindi essere battute solo dall'aviazione 27 settembre siamo nel momento in cui l'aviazione da bombardamento italiana ha il suo massimo sviluppo vediamo qui in primo piano l'immagine è stata scattata da uno dei bombardieri caproni lo stesso che ha sganciato queste due bombe e in questa immagine si vedono i due tipici ordini utilizzati dai bombardieri caproni la granata mina o granata torpedine a secondo della spessore dell'involucro e del tipo di esplosivo da 162 mm le granate erano le ordini le bombe d'aereo erano classificate non in base al peso come siamo abituati oggi ma in base al calibro il che tradiva il fatto che all'inizio si trattasse sempre e soltanto di proiettili d'artiglieria e questa invece è una granata mina da 260 mm nel 17 nell'estate del 17 buona parte dei primaturi caproni erano muniti di macchina fotografica proprio a questo scopo per documentare quello che fosse stato l'esito dell'azione altra immagine collegata all'attività dei bombardieri italiani questa volta nel 1918 e relativa alla centrale ideolettrica di Fies nella valle del Sarca eccola qua questo è il corso del fiume Sarca questa è la strada la si percorre ancora oggi e la centrale è visibilissima tra l'altro è un edificio che architontonicamente si nota perché ha una struttura merlata come quella di un castello qui ci sono le condotte forzate e il canale sotterraneo che portava l'acqua dell'invaso che è in questa zona alle condotte forzate e qui c'era il locale Turbine dove appunto c'era la centrale ideolettrica 19 maggio 1918 pochi giorni dopo questa installazione fu oggetto di un attacco aereo inteso appunto a mettere fuori uso questa centrale che forniva l'alimentazione elettrica a buona parte del fronte trentino fu un'azione significativa e furono inferti dei danni alla centrale che fu anche messa fuori uso per qualche tempo e vide anche una stretta collaborazione in quell'operazione tra l'aviazione italiana e i reparti di volo della Royal Air Force che in particolare contribuirono in questo caso alla copertura alla protezione indiretta dei bombardieri con i loro velivoli da caccia torniamo facciamo un passo indietro quella è un'immagine del maggio 18 qui siamo nel dicembre il 17 Asiago Asiago nel dicembre il 17 era veramente uno scheletro di città nel maggio del 16 era stata abbandonata dagli italiani era stata occupata dagli austri ungarici era stata pesantemente battuta prima dall'artiglieria austri ungarica poi dall'artiglieria italiana poi si è ritrovata in una sorta di terra di nessuno poi nelle immediate retrovie del fronte italiano che cosa si nota in questa immagine? si nota il classico aspetto di quello che erano gli abitati oggetto teatro di combattimenti si vedono le case gli edifici ma si vedono le mura perimetrali i tetti non ci sono più o ne sono rimasti molto pochi per chi conosce oggi Asiago la città è veramente molto diversa era molto più piccola all'epoca questa è la direzione rotabile per Gallio questa è la zona alta dell'altopiano del resto il nord è questo qui si vede una linea di trinceramenti e questa è la strada che va verso il capitello Pennar qui è dove oggi sorge il grande sacrario siamo sempre in Trentino siamo sempre nel 17 in questo caso è un altro tipo di obiettivo che è stato fotografato dall'aviazione italiana è il campo di aviazione di Pergine o meglio di Ciree di Pergine e in una zona pianeggiante è stato realizzato dagli austro-ungarici questo campo di aviazione l'immagine è abbastanza chiara consente di individuare immediatamente la T di atterraggio che caratterizzava il campo di aviazione qui si vedono alcuni velivoli parcheggiati all'aperto hangar di vario modello la strada campi di aviazione per ovvi motivi dovevano essere serviti a una strada e si può anche vedere come il campo fosse stato ricavato su precedente un'area precedentemente coltivata e percorsa da altre strade questa strada di cui è rimasta la traccia ovviamente è stata livellata per non incidere con il terreno d'atterraggio il campo di aviazione di Pergine è un campo di aviazione molto importante il più importante del settore trentino e consentiva all'agrazione austro-ungarica di operare sia verso gli altopiani quindi tutta la zona asiago folgaria lavarone sia verso la val sugana sia verso la vallagarina inverno 1917 teleferica pesante di folgaria calliano dove eccola qua perché un'immagine teleferica tutto sommato non è così significativa e non è nemmeno così bella invece lo è perché il problema del trasporto di carichi pesanti in montagna sul fronte alpino fu risolto da ambo i contendenti con un esteso ricorso alle teleferiche bisogna dire che gli italiani ne costruirono un maggior numero rispetto agli austriaci erano quelle italiane teleferiche anche più piccole quindi più piccole intendo in termini di capacità di portata di capacità di carico che però avevano una distribuzione molto più ramificata le teleferiche austriongariche erano soprattutto teleferiche pesanti come questa questa era se vogliamo l'asse principale del via di rifornimento dalla vallagarina quindi dalla zona di calliano verso l'altopiano di folgaria a folgaria poi la teleferica proseguiva in direzione al avarone l'altopiano di lavarone e dal avarone lungo la valdassa arrivava poi ad alimentare il fronte dell'altopiano d'asiago ovviamente non era l'unica c'erano altre teleferiche che salivano dalla val sugana è interessante vedere che è una teleferica a due vie e scende l'abitato di folgaria per chi conosce quella zona è qua inizia qua si vedono le ultime case questa è la strada che c'è ancora oggi che scende verso calliano questa è la località di Carpineda le curve sono ancora le stesse ve lo posso assicurare perché le faccio quasi tutte le estati questa è la valle del rio cavallo il profondo solco che scende appunto verso calliano e consentiva di alimentare le posizioni osteongariche dell'altopiano ancora folgaria perché non so se riuscite a vederlo queste cinque grandi baracche che si trovano al margine meridionale di quello che allora era l'abitato questa è una direzione est ovest questo è il centro di folgaria qui c'è la chiesa la chiesa di San Lorenzo qui c'è il cimitero tutti i posti che sono ancora lì oggi queste baracche non ci sono più erano il grande ospedale non so se riuscite a vederlo ma sul tetto c'è un grande quadrato bianco con la croce rossa ovviamente qui vediamo una piccola croce nera ma vi assicuro un grande quadrato bianco con una croce rossa perché il tema della protezione delle strutture ospedaliere da incursioni aeree e quindi del fatto di renderle facilmente riconoscibili secondo i termini della convenzione dell'AIA era già ben presente a tutti i contendenti il significato di questa immagine è proprio lo studio di quello che poteva essere la situazione in un centro logistico di grande importanza quale appunto è una folgaria folgaria abbiamo visto prima vi arrivava la grande teleferica mi arrivava anche la strada da Cagliano vi arrivava la strada da Serrada per la Val Serragnola per la Val Terragnolo era un importante centro logistico e quindi capire che cosa vi succedeva era molto importante per capire quali fossero le intenzioni dell'avversario tutti questi numeri 4 che vedete qua individuano zone di baraccamenti questo è il centro abitato ma qui tra l'altro questa strada tutto sommato ha il percorso dell'attuale circonvallazione sono zone di baraccamenti dove sostavano le truppe che scendevano ai posti del fronte o i rincalzi che salivano dalla Valla Garina per dare loro il cambio questo è una foto prospettica di fonte austriaca del Monte Grappa infatti è presa da nord Cima Grappa è qua il punto più alto dove oggi c'è il sacraio c'è la galleria Vittorio Emanuele ma se vogliamo questa immagine è molto interessante perché innanzitutto rispetto alla planimetaria non schiaccia il terreno e consente di avere una visione prospettica che permette di individuare con molta più facilità quelle che sono le eventuali direttrici di marcia le direttrici d'attacco le zone defilate e per noi è anche interessante perché individua tutte le quote più importanti del Grappa con i nomi che all'epoca gli davano gli austrieci sono più o meno gli stessi che gli davamo noi ma non tutti lo Spinuccia è il nostro Spinoncia il Monte Meata anche per noi è il Monte Meata il Monte Val d'Eroa per gli austrieci è la Stern Coupe Solaroll per noi sono i solarolli il Col dell'Orso e quest'altro è il Piramide per gli austrieci e per noi era il Monte Solaroll molti nomi si ripetono e ci voleva una grande conoscenza del terreno per riuscire a identificare quale fosse l'effettivo obiettivo di interesse ecco perché era anche importante che gli osservatori cioè gli ufficiali che volavano a bordo dei velivoli da ricognizione il pilota poteva essere anche un soldato o un sotto ufficiale ma l'osservatore era sempre un ufficiale perché era lui che gestiva la missione avesse una notevole familiarità col terreno sia per averlo studiato dall'alto sia per averlo studiato sulle carte geografiche trinceamenti sul carso ecco questa foto del 19 agosto 17 durante l'undicesima battaglia dell'Isonzo la cosiddetta battaglia della Bainsizza permette di vedere cosa si poteva identificare in termini di trinceamenti dall'alto e la cosa più evidente senza scendere nei dettagli è il tracciato del trincee non è facile districarsi capire quali sono quelle occupate quali sono le linee quali sono le linee di collegamento qui è facilmente intuibile che queste questa è una linea difensiva questa è una linea difensiva più avanzata questo è un camminamento o trincea di collegamento qui ce ne sono anche altri casi si può vedere quest'ombra è il reticolato il reticolato che in questo caso copre un camminamento e consente di compartimentare la difesa immagini di questo tipo ce ne sono moltissime non tutte sono facilmente identificabili anche perché visto dall'alto un segmento di trincea è molto simile a un altro segmento di trincea anche oggi ci vuole una notevole conoscenza del terreno questo ad esempio è un'altra trincea ma evidentemente è una trincea non più utilizzata Piave 22 giugno 1918 e qui vediamo come un'altra volta come abbiamo visto all'inizio fotografia radiotelegrafia e servizio d'artiglieria intendendo con questa la direzione del tiro fossero strettamente collegati fra di loro questo è il ponte gettato a Villa Iacur dagli austriongarici per portare dalla riva sinistra del Piave alla riva destra nella zona del Montello cosa si vede il 22 giugno del 18 il ponte è stato interrotto dall'artiglieria italiana che ha potuto farlo perché il velivolo i velivoli in volo che si alternavano in zona dall'alba al tramonto permettevano di dirigere il tiro dell'artiglieria e di interrompere distruggendolo il ponte qui infatti vedete una serie di pontoni abbandonati lungo la riva qualcun altro sta cercando di rimettere a posto le cose ma la situazione fu tale che proprio la distruzione dei ponti ad opera dell'artiglieria italiana puntualmente guidata dagli osservatori a bordo dei velivoli fu uno dei fattori cardine del denominare la sconfitta degli austriongarici per l'impossibilità di alimentare lo sforzo delle truppe che erano riuscite a passare sulla destra del piave e parlando di materiale da ponte e vedendo che cosa può fare la ricognizione aerea questa è un'immagine successiva al termine dei combattimenti è il novembre 1918 credo che sia della seconda metà però è interessante per alcune cose innanzitutto questa che vedete è la strada per i ponti della Paiula sul piave questi sono trinceamenti italiani è evidente come l'organizzazione difensiva nel 1918 questa era quella che è stata realizzata per contenere quella che poi fu l'offensiva austriaca di giugno avesse una rete di trinceamenti molto fitta con trincee di collegamento che potono essere utilizzate come trincee difensive vedete il tipo di andamento non è lineare per evitare il fuoco di infilata e quindi compartimentare il terreno qui lungo la strada c'è la stessa situazione un camminamento che può essere utilizzato anche come struttura difensiva questo è materiale da ponte cioè sono barche e tavole utilizzabili per costruire un ponte di barche ora questo tipo di informazione chiaramente rilevabile nell'immagine consentiva di capire se l'avversario stesse preparandosi o meno al forzamento di un ostacolo fluviale qui l'immagine è capovolta quindi si vede malamente ma questo numero è 115 questo è 19 e poi c'è un A 115 è la squadriglia 115esima squadriglia 19 è il gruppo il 19esimo gruppo in cui è inquadrata la 115esima squadriglia operante alle dipendenze dell'ottava armata A identificava il laboratorio fotografico in genere ce n'erano uno per gruppo ma in alcuni in alcuni casi ad esempio sui gruppi che operavano le dipendenze delle armate schierate sul fronte montano la prima e la settima innanzitutto dove le estensioni di terreno e i collegamenti erano meno semplici poterano esserci anche più gruppi più laboratori chiedo scusa per gruppo presso i singoli campi di volo ancora un'immagine del gruppo del grappa questa è la zona del colfenilon durante la battaglia del sostizio 19 giugno 1918 la direttrice verso nord qui si vede la strada piazzola piazzole d'artiglieria imbocchi di caverne trinceramenti un camminamento che si sviluppa in parte lungo il percorso e la strada e poi ci sono gruppi di case di cui ovviamente rimangono solo le mura perimetrali poi a tutti voi risulterà ben evidente tutti questi puntini bianchi più o meno fitti sono i crateri dei colpi di artiglieria questo è il colfenilon e qui si può vedere come questa è una trincea raccordata con un camminimento a queste altre posizioni qui si può vedere come l'artiglieria abbia battuto piuttosto pesantemente queste sono posizioni italiane ci avviamo alla fine ci tenevo a far rivedere questa immagine penso che sia molto nota è l'immagine una delle immagini simbolo dell'aviazione italiana durante la grande guerra si è riferita al volo su Vienna a quella impresa che fu un'impresa significativa sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista operativo che vide i velivoli dell'87esima squadriglia guidati nell'occasione da Gabriele D'Annunzio sorvolare Vienna e gettare i famosi manifestini che inneggiavano la vittoria dell'Italia e lasciavano intendere ai cittadini viennesi come i sforzi degli imperi centrali fossero mai destinati alla sconfitta una delle frasi di uno di quelli del manifestino dettato da D'Annunzio l'altro testo fu dettato da Ugo Rietti riceveva tuttavia la lieta audacia sospende tra Santo Stefano e il Graben una sentenza non revocabile o viennesi per chi conosce la capitale austriaca questa è la pioggia di manifestini questa è la cattedrale di Santo Stefano questo è il Graben tutto sommato è esattamente quello che si è verificato in quella mattina del 9 agosto la lieta audacia sospende tra Santo Stefano e il Graben una sentenza non revocabile o viennesi io con questo avrei finito vi saluto è stata una novità anche per me il parlare a un pubblico che non c'è è stato molto interessante vi ho presentato una selezione di immagini ce ne sono tantissime e lo studio della fotografia aerea consente veramente di capire molto di quello che fu la guerra sul terreno la fotografia rivela molto è anche vero però il contrario per capire quello che rappresenta la fotografia bisogna conoscere il terreno e capire di cosa si sta parlando i manuali di fotointerpretazione dovrebbero risolvere proprio questo scopo un accenno all'attualità la fotointerpretazione in campo militare oggi è più che mai attuale detto questo vi saluto e buona serata a tutti